Chi non legge le recensioni prima di acquistare, sia che sia un acquisto online, soprattutto visto che dobbiamo ricevere la merce e non abbiamo il contatto diretto con chi ce la vende, sia che siano delle attività offline. Prima di andare in un ristorante guardiamo TripAdvisor oppure guardiamo proprio le recensioni di Google My Business. Se devo portare fuori una ragazza, prima guarderò se il ristorante ha almeno 4 stelle e mezza, se ne ha 2, cambio posto, ok? Quindi fate attenzione alle recensioni online e anzi stimolatele, stimolate le recensioni positive perché sono fondamentali. L'ultimo step, posso anche trovare due siti, uno mi vende lo stesso prodotto a 90 euro, l'altro a 110, ma se quello che me lo vende a 90 ha 2 stelle su 5 delle recensioni, l'altro invece ne ha 4, 4 e mezzo, 5, io vado su quello, pago di più però sono sicuro che mi troverò bene. Grazie per la visione!